Buonasera a tutte e tutti. Questo webinar, al contrario di quello che abbiamo fatto in presenza a Livi di Prato, sempre io e Irene, giovedì scorso, è mirato a chi è finalizzato, insomma, è rivolto a chi deve ancora scrivere un accreditamento e lo vuole presentare in ottobre, poi vedremo le scadenze. La scadenza è sempre ad ottobre del CAC 120 che è la sigla che determina appunto con cui viene chiamato il cosiddetto accreditamento. Quindi è bene che voi state qua oggi perché per scrivere questo accreditamento non ci si può ridurre a settembre, non si può cominciare a farlo a settembre, è bene cominciare a pensarci adesso e poi con calma però durante l'estate magari metterci mano e arrivare a settembre con le idee abbastanza chiare. Allora, siamo qua, conosciamo tutti Erasmus, magari molti di voi come me e molte di voi come me hanno fatto l'esperienza Erasmus, sono parte della generazione Erasmus che è iniziata un po' quando quelli della mia età facevano l'università. Io l'ho fatto a Parigi e effettivamente per molti di noi è stato un cambiamento di vita che poi ci ha accompagnato un po' per tutto il corso della nostra carriera e nel mio caso appunto ancora oggi in veste diversa ma ha iniziato allora questo percorso. Oggi siamo a 27 stati membri più alcuni che vedete qua elencati che comunque partecipano al piano, la Turchia in particolare sono molto 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 attivi e quindi possono entrare a far parte di un eventuale parternariato dei vostri progetti. E la finalità dell'accreditamento, ma di tutto il piano Erasmus, quindi anche le altre azioni Erasmus che oggi giusto citeremo, le azioni chiave 2 e non approfondiremo perché in particolare l'azione chiave 1 è dedicata alla mobilità dello staff e degli studenti. Chi di voi ha fatto come me in passato, ha gestito, ha partecipato a un'azione K229 si ricorderà che i finanziamenti Erasmus venivano dati a un parternariato di scuole, quindi il budget più o meno era unico a parte la scuola coordinatrice e con quello si poteva far muovere gli studenti. Oggi per fare questo ci si rivolge, si scrive, si chiede un accreditamento, quindi un'azione K120 chiave 1, oppure un'azione a breve termine K122 che anche quella citeremo ma non approfondiremo. Ci sono comunque nei nostri canali già dei webinar in cui abbiamo trattato questi argomenti e poi lo rifaremo ancora, quindi volendo potete poi in fondo a queste slide che vi verranno mandate troverete tutti i riferimenti ai canali e Twin in Toscana. Quindi la finalità è la mobilità come strumento autentico per un apprendimento europeo e quindi per lo sviluppo di una cittadinanza europea ed è questo l'obiettivo principale, la collaborazione, la qualità, l'inclusione, l'equità. In particolar modo in questo momento l'agenzia ha spinto molto sul civic engagement, c'è un progetto in atto che si chiama PIS, proprio di cui fa parte Indire, con varie transnational cooperative activity in giro per l'Europa, in varie parti dell'anno. Sono centrate su questo argomento anche a fronte delle elezioni imminenti europee e queste sono le quattro priorità orizzontali, poi ce ne sono di settoriali ma per l'accreditamento ci si concentra su queste quattro priorità. inclusione, diversità, transizione digitale, sostenibilità ambientale e cambiamento climatico, partecipazione alla vita democratica. Io sono appena tornata ieri sera proprio da una TCA a Stoccolma che era centrata sulla sostenibilità ambientale e il cambiamento climatico. Quindi i temi del vostro accreditamento, magari non tutti, però in qualche modo, magari qualcuno di più, qualcuno di meno, dovrebbero toccare queste priorità, questi principi Erasmus. e come vi dicevo, la partecipazione alla vita democratica, in particolare in questo momento, ha un focus specifico. Tant'è che nell'ultima presentazione della domanda K220 di cooperazione internazionale scaluta a marzo, i progetti che avevano il focus su questo argomento venivano valutati maggiormente. Ed eccole qua, di nuovo, le quattro priorità con le azioni, tutte le azioni che vengono previste da questo piano Erasmus che è uscito nel 2021, che durerà fino al 2027. Questo lo ritroveremo dopo in una slide, ma lo diciamo subito, non è più appunto come un tempo, un progetto di un anno, di due anni e che poi finisce. Chi ottiene l'accreditamento poi ogni anno potrà chiedere le mobilità che meglio crede per la sua scuola siano importanti e lo farà ogni anno fino al 2027. Quindi chi l'ha preso, come l'avevamo preso noi nella mia vecchia scuola di Verona, il primo anno nel 2021, per sette anni ha avuto questa possibilità. Con budget differenti, perché poi le cose piano piano sono cambiate, dipende da come uno mette in atto le azioni nella propria scuola e quindi la valutazione che viene ricevuta, ma anche dal fatto che il primo anno c'erano meno richieste, poi sono cresciute fortunatamente, adesso molte scuole sono accreditate e quindi ovviamente il budget è stato ridotto. Quindi ogni anno un budget diverso con il quale poi attuare le mobilità richieste. L'accreditamento appunto l'azione chiave 1 per la mobilità staff e alunni, invece l'azione chiave 2 è di cooperazione tra organizzazioni e istituzioni, quindi parternariati, che sono di piccola scala K210 o 220 di grande scala, quindi progetti molto importanti, con budget importanti, che proprio in casi particolari e molto motivati prevedono la mobilità degli alunni. Non che questo non avvenga, ma deve essere motivato, altrimenti la mobilità avviene tra partner per scambio di informazioni, per meeting, per lavorare a un un progetto comune che poi deve essere condiviso con tutta la comunità europea, quindi ha un prodotto finale di rilevanza, una ricerca. Eccole qua, quindi nello specifico le quattro priorità, ma ne abbiamo già parlato, quindi vado veloce. C'è anche ovviamente l'inclusione, quindi la solidarietà appunto in chiave europea contro gli stereotipi legati alla diversità e quindi promuovere le pari opportunità e la parità di accesso, l'inclusione e l'equità. L'innovazione digitale, che ovviamente segue il piano d'azione per l'istruzione digitale, il nostro PNSD, oggi integrato con il PNRR, e la sostenibilità ambientale, che invece segue i passi sia dell'agenda 2030 che del Green Deal europeo. Quindi anche per trarre ispirazione ai vostri progetti vi consiglio comunque di consultare e di citare queste fonti. L'azione chiave 1, come vi dicevo prima, si divide in accreditamento K120, chiamato K120, che si apre, viene chiesto una scadenza quest'anno anticipata al primo ottobre, tutti gli anni ad ottobre, quest'anno è il primo ottobre 2024. Poi, in un secondo momento, se si ottiene l'accreditamento, di solito le risposte arrivano verso la fine di gennaio, quindi in febbraio, chi ha ottenuto l'accreditamento negli anni precedenti, o lo stesso anno, facciamo conto che voi chiediate l'accreditamento ad ottobre, lo otteniate, a febbraio sarete chiamati a compilare il K121, un altro form in cui inserire le mobilità che prevedete per quell'anno, e che, chiaramente, sono in linea, coerenti con quanto chiesto a monte nel K120, ma poi ci torniamo meglio. La coerenza, comunque, è una parola chiave che tornerà spesso. Mentre i progetti di mobilità di breve periodo, K122, che sono indicati, anche qui si hanno scadenza ad ottobre, ma sono indicati, ecco, per chi magari ha problematiche all'interno della scuola, o perché la segreteria è troppo berata, o perché non se la sente, non ha esperienze precedenti, non ha personale, anche con competenze adeguate, si può tentare, provando un progetto, quindi, minore, più piccolo, ma comunque che permette delle mobilità degli studenti e dello staff, degli docenti. Ecco, come dicevo prima, è valido tutta la durata dell'accreditamento fino al 2027, mentre, ecco, i progetti di mobilità breve non necessitano dell'accreditamento. Normalmente, chi ha ottenuto l'accreditamento non può chiedere anche un K122, perché, appunto, ha già la disponibilità del budget dell'accreditamento. Se, invece, non si ottiene l'accreditamento, c'è possibilità, anche, mi pare, a marzo, di chiedere un K122, ad ottobre e a marzo, ora non ricordo le date di marzo. Come vedete, qui abbiamo riportato, appunto, le call. A questo link trovate maggiori informazioni per le candidature ai progetti di mobilità di breve termine. Si può anche partecipare a un accreditamento come membro di un consorzio accreditato. Quindi, anche avendo già ottenuto un accreditamento, se si ottiene già un accreditamento non se ne può chiedere un altro come coordinatori, ma si può partecipare a un consorzio. Quindi, un'altra scuola o un altro ente hanno ottenuto l'accreditamento attraverso una domanda di un consorzio, di più partner, se si può entrare a farne parte. Le tipologie di mobilità che si possono effettuare con il K1 sono molto varie. Quindi, mobilità per lo staff, per gli allunni e poi altre opzioni. Quindi, job shadowing per i docenti in particolare, ma anche per gli ATA, per gli amministrativi. Corsi di formazione, anche questi poi da decidere a seconda di quello che si è messo nel K120 e quindi dei bisogni della scuola. O attività di insegnamento, quindi teacher assignment, che sono un po' meno frequentati, utilizzati e sfruttati, perché per attuare questa attività di insegnamento è necessario, anche perché sono di lungo periodo, non gravare sul bilancio e quindi avere un sostituto all'interno della scuola. Quindi, penso a chi ha ore a potenziamento. Ecco, io di spagnolo non ne abbiamo, non lo potrei fare, per esempio. La mobilità degli alunni può essere di gruppo, i vecchi scambi, però magari finanziati totalmente o in parte con l'accreditamento. Ecco, su questo faccio un inciso, normalmente anche per spalmare il budget, perché comunque dobbiamo sempre pensare nelle valori Erasmus, nella condivisione, nella trasparenza, nella compartecipazione il più possibile ampia della comunità scolastica o del consorzio, tanto più del consorzio. Magari, ecco, avendo un finanziamento chiaramente non enorme, noi il primo anno ne avevamo avuto uno abbastanza capiente, sui 90 mila euro, però comunque avevamo fatto molte mobilità, avevamo progettato molte mobilità, ma trasversali, a parte in un caso in cui c'era un progetto specifico, il mio progetto cammini, che era di volta ad una classe, iniziato già l'anno precedente come progetto e-twinning. Molto spesso i progetti e-twinning sono, il twinning è sempre più legato ormai a Erasmus, non è obbligatorio, ma facilita molto le cose, sia nella ricerca dei partner, sia poi nella condivisione dei materiali e nella costruzione delle mobilità. Quindi, ecco, mobilità trasversali, tra classi, in modo tale che più indirizzi della stessa scuola possano usufruire dell'accreditamento e non solo le stesse classi. Oppure individuale, e su questo mi fermo un attimo, perché è bene prevederle nell'accreditamento, proprio perché i valutatori hanno un occhio di riguardo, cioè valutano molto positivamente l'intenzione di mandare i ragazzi, o anche i docenti, ma in particolar modo i ragazzi, a lungo termine, che può essere 15 giorni, un mese, in una struttura pensata per essere ripristinata, per essere ripetuta, quindi come un qualcosa che diventa standard e strutturato all'interno dell'istituto, della scuola. Qui si va nello specifico, troverete poi nelle slide, ve le guarderete più con calma, proprio le differenziazioni tra i giorni, ecco, altre attività che si possono fare, ospitare insegnanti ed educatori in formazione, visite preparatorie, se si fa uno scambio con una scuola che non si conosce, il referente di quel progetto può andare per qualche giorno, normalmente tra quattro giorni, a visitare l'istituto, a conoscere i colleghi, e poi appunto si diceva partecipazione a corsi strutturati, ma può essere anche una mobilità virtuale, blended, appunto io l'ho fatta da entrambi l'Erasmus, car 229 e accreditamento attraverso i twinning, anche perché c'era la pandemia in entrambi i casi, e quindi abbiamo ovviato, finché non abbiamo potuto poi ripristinare le mobilità fisiche, e in questo caso ovviamente nelle mobilità blended non c'è durata, non c'è limite di durata. Si possono anche invitare degli esperti che insegnano, che danno lezioni, seminari ai docenti, allo staff, e poi qua abbiamo invece i principi di qualità con i quali vengono valutati poi i vostri progetti, presentati come accreditamento per ottenere l'accreditamento, e poi anche in seguito alle mobilità effettuate, una volta ottenuto l'accreditamento, di anno in anno, questi sono i principi che dovete tenere presenti come griglie di valutazione, pensando a chi valuterà il vostro progetto, perché ne terrà conto, e quindi appunto l'integrazione, l'inserimento nei vostri obiettivi di inclusione, del digitale, della sostenibilità, una buona gestione, che significa coinvolgere in un team di progettazione e poi di gestione più docenti, oltre che il dirigente scolastico fondamentale e la DSGA, la segreteria, perché poi quando si va a fare la mobilità, si torna e bisogna rendicontare le spese senza una segreteria di appoggio e un dirigente di appoggio, diventa davvero molto difficile, e non vi scoraggiate se non avete una situazione positiva, perché vi assicuro che io non avevo una situazione positiva, ma con la tenacia ci si arriva lo stesso, e anche con l'appoggio dei ragazzi e dei genitori, anche perché qui stiamo parlando di mobilità che vengono spesso totalmente gratuite per gli studenti, quindi è un po' difficile anche opporsi. E quindi una buona gestione sicuramente include una turnazione di una commissione, di un referente, che deve garantire, questa commissione deve garantire, una turnazione nel senso anche che non ci sarà un vuoto se qualcuno esce per qualsiasi motivo, pensionamento, trasferimento, non può rimanere in mano a una persona o a due persone, e senza quelle due persone non si può più andare avanti, per questo è necessaria veramente una grande condivisione con tutto l'istituto e attraverso un team. Questo è nel specifico quello che dicevamo prima, ovviamente ogni volta che poi si torna ad una mobilità, ma anche prima di partire, per tutto l'arco dell'accreditamento che si è ottenuto, la disseminazione all'interno e all'esterno dell'istituto per l'avvisibilità dei fondi EU è non solo fondamentale, ma direi proprio obbligatoria, quindi una scuola accreditata riceve la targa da esporre a scuola, i loghi da inserire in ogni prodotto che viene creato e diffuso nel sito, eccetera, eccetera. Ecco, io lascio la parola per adesso a Irene e poi tornerò con un esempio un po' più concreto di progettazione attraverso l'intelligenza artificiale. Prego, Irene. Salve, buonasera a tutti. Riprendo appunto, riparto da quello che Marcella ha detto facendo questa, diciamo, introduzione generale a quelli che sono i principi fondanti, i principi di base dell'accreditamento e dell'Erasmos per andare però a vedere all'interno della progettazione. Cioè, quello che è stato detto fino ad ora da Marcella è, diciamo, la parte teorica che poi va tradotta in esempi pratici e soprattutto va inserita all'interno della web form, cioè di questa fantomatica candidatura che poi dovrà essere compilata, dovrà essere sottoscritta dal dirigente e che poi andrà appunto ad essere sottovalutata dai valutatori. Allora, io Marcella andrei avanti un attimino a questo punto perché se, ecco, partirei proprio da questa parte, da una parte che a volte è sottovalutata ma è importante perché prima di poter accedere alla web form, quindi prima di poter vedere anche come è strutturata una web form, è importante fare un passo, diciamo, formale, un'iscrizione, chiamiamola in questo modo ed è fondamentale acquisire quello che appunto si chiama il login, cioè una chiave di accesso che vi permette di entrare all'interno del mondo Erasmo, quindi all'interno delle candidature e che vi permette poi di procedere alla compilazione. Quindi questo è un passo essenziale che generalmente viene fatto dal docente, diciamo così, che è il referente, un docente referente per la progettazione Erasmus. Potete avere anche più docenti della stessa scuola, possono anche avere la propria e-login, quindi non è necessariamente legata alla persona, perché in questo modo permette a persone, diciamo anche che appartengono al team di progettazione, di accedere poi alla candidatura. Vi consiglio di non proliferare un numero illimitato di e-login, perché poi insomma se ne perde il controllo. Però io direi il gruppo di base, cioè chi poi andrà materialmente a scrivere all'interno della webform, è importante che abbia la propria login, che per l'altro questo login è, per semplificare le cose, è stata poi utilizzata per accedere anche a tutti i servizi collaterali, per esempio, se dovete accedere ai twinning, se dovete accedere alla piattaforma dove sono, dove è l'ESEP, dove sono compluiti i twinning, school education getaway, utilizzerete la stessa password. Altra cosa importante, e questo invece è una cosa diversa, è quello appunto che si chiama organization ID, questo è il codice identificativo del vostro istituto. Anche questo è un altro elemento che passa importante. Il vecchio PIC, il vecchio PIC. Esatto, esatto, il vecchio PIC. Chi ha precedentemente, infatti ci stavo arrivando, chi si era precedentemente registrato, quindi con quello che prima si chiamava PIC, non deve reiscriversi un'altra volta, ma può riutilizzare il vecchio PIC per accedere alla candidatura. Chi non l'avesse fatto è un momento importante e generalmente dovrebbe essere fatto tramite, no, dovrebbe, deve essere fatto tramite o il dirigente o la DSGA perché c'è dei documenti da indicare, dei dati formali della scuola e una volta che voi vi siete identificati, quindi avete acquisito questo codice, siete all'interno del sistema del sistema di dati dei rapos e quindi non avrete poi bisogno ogni volta di reinserire i vostri dati perché digitando il vostro OED automaticamente appariranno tutte le caratteristiche legate alla vostra situazione. Quindi, questi sono i due passi importanti proprio per passi preliminari per poi andare all'interno della candidatura. Grazie Marcella, possiamo andare avanti. Ecco, questo è quello che dicevamo prima, poi magari con calma ve lo vedete attraverso le slide, abbiamo proprio inserito anche il il riferimento dal quale poter accedere. Una volta, esatto, grazie, una volta che avete fatto questa operazione preliminare, vi si apre all'interno attraverso appunto accedendo tramite il vostro e-login vi si apre questa diciamo vetrina, la vetrina in cui vengono esposte tutte quelle che sono le call aperte, appunto si chiamano così, cioè i bandi diciamo noi e ce ne sono diverse a secondo del periodo dell'anno. I bandi appunto che voi e a cui voi siete interessati ovviamente li scegliete da questa finestra e poi andate avanti grazie Marcella ti vuole andare avanti nella ecco nella scelta di quello che è il vostro il vostro percorso. Ora noi abbiamo scelto appunto come modello esemplificativo di farvi entrare all'interno del capaccio 120 ecco a volte c'è un po' di confusione ho visto perché questo lo vedete anche quando accedete alla finestra vi ho fatto vedere precedentemente perché quando si dice capaccio 120 ci sono poi tre diversi settori c'è capaccio 120 scuola quello per l'educazione degli adulti e poi c'è capaccio 120 che riguarda la vocational educational training cioè la formazione professionalizzante sono tutti e tre percorsi di accreditamento ecco questa credo sia una prima scelta che la scuola deve fare se vuole fare un accreditamento che riguarda il settore scuola oppure un accreditamento che riguarda invece la formazione professionale penso per esempio a un istituto tecnico un istituto professionale dove ha bisogno di fare anche delle mobilità che siano appunto così sono definite work based cioè basate proprio sulla professione mentre le mobilità del settore scuola hanno diciamo una caratteristica più formativa più legata non legata appunto all'aspetto della professione teoricamente una scuola può fare anche tutti e tre gli accreditamenti ma diventerebbe poi una cosa difficile da seguire però ci sono scuole che per esempio hanno sia l'accreditamento scuola e l'accreditamento sulla formazione professionale allora questo è un po' il modulo cioè il modulo ha una sua logica questo lo diceva all'inizio Marcello e lo ribadisco io cioè il modulo la web form è costruita in maniera tale che ci sia un richiamo continuo a quelle che sono le caratteristiche fondamentali del vostro progetto la parte diciamo iniziale è quello che appunto viene definito il background cioè la scuola si presenta deve dire chi è la scuola perché quello che diceva appunto prima anche la collega perché vi state candidando questa è una cosa molto importante cioè chi vi legge il valutatore che andrà a leggere la vostra candidatura deve capire bene il vostro profilo ma contemporaneamente capire anche quali sono le ragioni che stanno dietro questa candidatura e soprattutto qual è il valore aggiunto che una formazione a livello internazionale può portare al vostro istituto e poi c'è l'Erasmus Plan che fondamentalmente è diviso in tre sottosezioni c'è la parte degli obiettivi quindi che cosa si vuole raggiungere le attività come si intende raggiungerle e poi appunto la gestione cioè Erasmus l'accreditamento vi chiede di spiegare in maniera molto dettagliata le modalità di lavoro che voi adotterete le risorse che utilizzerete come vi organizzerete in maniera tale che quello che avete esposto nella vostra candidatura possa avere una ricaduta all'interno della scuola all'esterno e a livello anche più ampio di territorio ecco qui un pochino riassumo quello che ho detto prima qui mi viene solamente di dirvi una cosa questa cosa che è sottolineata qui sulla destra c'è originalità e unicità che cosa vuol dire cioè il piano Erasmus deve essere un piano originale originale vuol dire unico nel senso che deve veramente riflettere rispecchiare direi quelle che sono le caratteristiche del vostro istituto quindi nel momento in cui voi lavorate sull'Erasmus Plan è importante che quello che scrivete quello che scegliete gli obiettivi che sceglierete siano veramente legati a quelle che sono le esigenze i bisogni del vostro istituto è questo che rende unico un progetto e che rende unico un piano Erasmus e questo diciamo Irene già anticipiamo sfata un po' la paura il mito che ora attraverso l'intelligenza artificiale si possano scrivere progetti senza metterci appunto del proprio senza originalità in unicità l'originalità veniva valutata anche antecedentemente figuriamoci adesso mi avviso anche a scuola anche in classe sarà la creatività invece un valore assoluto da tenere sempre in primo piano sì credo appunto che agli occhi anche del valutatore che andrà a leggere le vostre candidature deve venire fuori proprio non un'immagine stereotipatica ma chi vi legge deve veramente vedere nella vostra candidatura delle azioni che voi avete scelto perché avete visto dentro la vostra scuola determinati aspetti su cui intervenire e questo è ovvio sottolinearlo ma ogni scuola è diversa dalle altre da caratteristiche diverse pur più pur ovviamente in una certa linea che accomuna tutte altra cosa importante altra parola chiave secondo me secondo appunto quello che abbiamo un pochino nucleato io e Marcella è anche la pertinenza cioè che poi è collegata a quello che dicevamo prima cioè nel momento dopo che avete scelto gli obiettivi andate diciamo a scegliere quelle che sono le attività ovviamente devono essere delle attività pertinenti cioè devono veramente rispettare quello che voi avete detto nella fase nella presentazione quindi nel vostro background chi siete nella parte degli obiettivi e dei vostri soprattutto dei bisogni abbiamo bisogno di questo e quindi scegliamo questa pertinenza ecco per questo dicevo all'inizio che il modulo di candidatura ha proprio una sua logica è un cioè sono tante sezioni ma sono tutte sezioni collegate perché quello che voi dite in un momento della vostra candidatura deve poi essere ripreso e rivisto da un'altra parte nella fase successiva e questo è veramente un momento importante e soprattutto appunto ripeto anche quello che aveva detto prima Marcella l'importanza di includere anche nella scelta delle vostre attività partecipanti con minore opportunità questo magari dovreste averlo già detto precedentemente quando avete fatto il profilo della vostra scuola se ci sono situazioni magari di background socio-culturale svantaggio appunto quando si parla di minori opportunità si parla di svantaggio a 360 gradi e quindi la scelta delle attività che voi inserirete nella vostra candidatura deve essere veramente in linea collimare con quello che avete precedentemente indicato qui appunto si riassume un pochino quello che dicevamo prima velocemente all'interno della web appunto abbiamo scelto alcune parti che secondo noi sono un pochino quelle che spesso appunto anche da quello che a volte a volte quando ci fate delle domande oppure nel feedback di magari di alcuni progetti che sono stati non hanno avuto l'approvazione perché non hanno raggiunto diciamo quel limite che appunto è la soglia del 70 su 100 ci vengono chiesti ci sono alcuni punti un pochino fragili e appunto su questi si ora vedo che Marcella vi aveva andato all'interno delle web form ok ecco questa si era la pagina grazie ok ecco questo giusto per questa è una cosa che abbiamo prescontato ma a volte magari non lo è nel momento in cui voi vi candidate dovete potete scegliere se candidarvi come singolo istituto o come consorzio nelle web form appunto la pagina che prima faceva vedere Marcella quando andate all'interno della candidatura se scegliete di candidarvi come singolo istituto inserendo il vostro OED vi viene già di default tutti i dati che avete inserito nella fase di registrazione oppure potete scegliere l'opzione consorzio ora i consorzio sono un'opzione un pochino più complessa un pochino più elaborata noi abbiamo all'OSR l'esempio dell'OSR Toscana che gestisce scuole del territorio perché il consorzio nasce sostanzialmente per creare rete di scuole con caratteristiche comuni oppure con bisogni comuni facendo una scelta a monte e poi decidendo appunto di lavorare su quelle che sono le caratteristiche indicate dal consorzio se scegliete di candidarvi come singolo istituto come dicevamo prima c'è bisogno di presentati quindi si presenta e si evidenzia quelle che sono i propri bisogni o eventuali altre partecipazioni a altri progetti Erasmus ci sono proprio una serie di domande grazie Marcella facciamo avanti sì no volevo intervenire un attimo su questo sì prego perché ecco come dicevi tu con il consorzio un po' come con il Cadeo 120 si conoscono già i partner vanno presentati e quindi ma non perché bisogna bisogna dire chi sono per essere sicuri o per una presentazione semplice pure semplice ma perché è necessario capire quali sono i loro bisogni e il loro apporto quindi poi all'interno della rete un po' come nel Cadeo 120 mentre nell'accreditamento come singolo istituto non è necessario anzi non si deve proprio fare non si devono indicare i partner il tipo di mobilità dove si va quando si va ma perché si vogliono fare quel tipo di mobilità finalizzate allo sviluppo di competenze CLIL finalizzate alle certificazioni dei ragazzi quindi allo sviluppo di competenze linguistiche che portino a livelli EB2 EB1 C1 a seconda dell'indirizzo ma non va specificato in quel momento nessun dettaglio mentre se vi ricordate nel Cadeo 129 prima si cercavano i partner e poi si faceva si indicavano nel bando e quei partner poi se si vinceva il progetto il finanziamento venivano finanziati appunto faccio sempre l'esempio del progetto Cammini che ho più volte che è un role model Erasmus quando noi abbiamo presentato in ottobre 2020 l'accreditamento che era il primo avevo questa idea si mise nella sezione come sostenibilità come appoggio al principio della sostenibilità in un obiettivo un progetto sui cammini e quindi con collegamenti con il territorio le associazioni antiterritoriali eccetera eccetera ma era tutto generico io non l'avevo ancora scritto non avevo trovato i partner che ho trovato poi a dicembre tramite i twinning e noi abbiamo saputo solo a marzo poi di aver ottenuto l'accreditamento il progetto era già partito sui twinning nel CAC121 qualche specifica in più lo vediamo dopo andrà a mesa ma sempre lo stesso non va indicato né dove si vuole andare né qual è il partner questo è una cosa che rimane che deve essere conosciuta ben chiara sicuramente questo sì alla scuola per avere una progettazione previa prima di chiedere le mobilità per l'istituto in Marcella si è saltata ma cioè c'è in realtà ma forse è un problema di audio no 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 ci sono ci sono ti lasciavo la parola Irene ma scusami perché non ti vedevo più scusami Marcella sì appunto ricollegandomi a quello che diceva Marcella è proprio cioè l'accreditamento è proprio una progettazione dove non dovete indicare budget non dovete indicare destinazione ma si lavora proprio sul progettare a lungo termine ora non più tanto a lungo termine perché siamo già nel 24 25 quelle che poi saranno le attività da realizzare ecco una cosa importante è il background cioè quando voi parlate del vostro background dovete spiegare quelli che siete quello che siete l'istituto quelle le proprie caratteristiche in maniera tale appunto che chi vi legge deve capire come appunto dicevo prima il vostro profilo e un'altra cosa importante che a volte sottovalutiamo ma che è importante ricordare all'interno delle varie sezioni della webform avete un numero massimo di caratteri consentiti per poter presentarvi per esempio io ho visto quello del background non sono tantissimi caratteri sembra di andare a memoria siano sui 2000 caratteri e invece uno vorrebbe dire tantissime cose però anche questo è importante perché in quel spazio dovete veramente presentarvi e far capire quello che siete quindi questo è importante anche quando scrivete e cominciate a lavorare sulla candidatura subito secondo me è importante che siate consapevoli fin dall'inizio quanto è lo spazio cioè quanti sono il numero massimo consentito di caratteri per ogni sezione perché questo poi vi porta a ovviamente a fare un lavoro di scelta di rifinitura è un lavoro di stile sicuramente perché bisogna proprio affinare scegliere le parole scelte lessicali precise quindi questo è sicuramente un momento importante sì qui appunto come vi si presenta praticamente all'interno del vostro modo dovete presentare dire chi siete dire anche per esempio un'altra cosa che è importante qual è il profilo dei vostri studenti quindi il profilo degli studenti si intende la fascia di età ma si intende anche per esempio il contesto socio-economico culturale situazioni di svantaggio presenza di alunni stranieri mettete con questo un altro importante cioè siate sempre molto concreti se dite che nella vostra scuola c'è un tot di alunni stranieri una percentuale un numero un riferimento perché questo rende più concreto quello che voi state scrivendo ecco questa è sicuramente la parte più importante su cui dovete lavorare nella prima parte cioè queste due parole bisogno e sfide sono un pochino il cuore pulsante di tutta la candidatura vi vengono chieste all'inizio e vedrete che nella candidatura ritorneranno molto più frequentemente perché vi chiedono proprio di individuare poi ho messo tre colori diversi con il giallo il bisogno e le sfide poi come pensate di agire in maniera tale che questi bisogni poi possono diventare del momento di crescita e vi chiedono anche con il bo di mettere degli esempi concreti ecco questo è importante questa secondo me è la parte in cui dovete maggiormente fare attenzione perché se lavorate bene sul delineare questi aspetti poi dopo vi verrà anche più facile trovare gli obiettivi e poi trovare le azioni che si riferiscono a questo primo momento quindi non sottovalutate questa richiesta e soprattutto anche differenziare perché un bisogno e una sfida sono due cose diverse che sono collegate e dovete anche o non possono anche noi se siete voi in questo momento che deciderete in che modo poi fare in modo agire in maniera tale che ci sia questo momento di crescita ecco questa è un'altra cosa velocemente vi volevo dire la candidatura vi chiede di avete la possibilità di inserire quelli appunto che loro chiamano dei documenti strategici documenti strategici che cosa possono essere documenti strategici allora considerate che è una candidatura che vale per tutti i paesi dell'Unione Europea quindi hanno stabilito un format che va bene per tutte le scuole poi ogni ogni Stato ogni Nazione ovviamente in riferimento alle proprie caratteristiche individua quelli che sono i propri documenti il TOP il RAF il RAV il PDM piano di miglioramento la rendicontezione sociale cioè voi potete aggiungere questi documenti c'è anche la possibilità proprio di allegarli però un consiglio che vi diamo è quello di aggiungerli nel caso in cui siano stati diciamo abbiate citato dei riferimenti che poi possono essere desunti da questi documenti quindi è un po' una specie di cercare di far vedere che quello che voi dite è non cercate dovete far capire che quello che voi state scrivendo è supportato da delle azioni reali da dei bisogni effettivi da delle situazioni effettive che voi avete rilevato nella vostra scuola ed è questo che rende quello che dicevamo prima unico il vostro progetto perché un PTOF un RAP un PDM di una scuola è completamente diverso da quello di un'altra scuola ed è qui veramente che vi giocate la carta dell'originalità e quindi di una maggiore valutazione anche da parte di chi vi andrà a leggere gli obiettivi esatto quindi stiamo andando dai bisogni le sfide gli obiettivi a questo punto voi scegliete i vostri obiettivi il format vi chiede vi permette di mettere fino a un massimo di 10 obiettivi allora anche questo ricordatevi che il numero non fa la qualità per cui metto più obiettivi così vengo vista in maniera una maggiore valutazione anzi per esperienza anche personale i miei precedenti progetti che poi non erano andati bene al primo tentativo è bene circoscrivere perché gli obiettivi questi obiettivi che voi deciderete di inserire si riferiscono a quei bisogni che avete individuato precedentemente e qui c'è la linea linearità del progetto la coerenza del progetto la pertinenza del progetto quindi scegliere degli obiettivi dargli un titolo spiegargli fare una anche una scansione temporale perché appunto dovete far vedere che la vostra progettazione è una progettazione a medio lungo termine e quindi spiegare ho scelto questo obiettivo quindi il primo anno vedrò determinati risultati il secondo ne vedrò altri il terzo ne vedrò altri io vi ho messo nella slide successiva un esempio di un obiettivo che Marcella puoi andare avanti grazie ecco qui praticamente ah no quella precedente degli obiettivi come si presenta nella quella successiva grazie ecco questa grazie ci sono praticamente ogni obiettivo poi lo dovete descrivere come vi dicevo precedentemente uno dei punti più critici che a volte anche nel punto che sono venuto fuori è quello del alla fine trovate scritto monitoraggio perché vi chiede la candidatura di non solo di descrivere l'obiettivo ma anche di spiegare come andrete a monitorare i risultati anzi non i risultati la progressione del vostro obiettivo e questo è un punto abbastanza importante perché dovete spiegare da un punto di vista quali diciamo indicatori sceglierete quali criteri sceglierete sia di tipo qualitativo sia di tipo quantitativo attraverso i quali farete questa azione di monitoraggio quindi attenzione a non sovrapporre il monitoraggio con la valutazione qui vi viene chiesto di spiegare gli strumenti le modalità che la scuola deciderà di adottare per monitorare questi progetti vado avanti velocemente a qualcosa di cui aveva già parlato prima Marcella ci vuole un team questo ve lo chiede la candidatura un gruppo di persone che lavora e quando si parla di gruppo di persone non si intende solo chi stende materialmente la candidatura ma tutto il gruppo che dovrebbe aver partecipato già da ora a una sorta di monitoraggio a una sorta di rilevazione data all'interno dell'istituto perché noi andiamo a lavorare su queste cose chi lavorerà su determinati aspetti rispetto a dati quindi un coinvolgimento a 360 gradi se tutta quella che è anche la parte la dirigenza ovviamente di SGA la parte amministrativa la parte didattica perché appunto l'accreditamento investe a 360 gradi proprio il sistema il sistema scuola il piano delle attività anche qui vado abbastanza veloce cioè a questo punto siamo alla parte centrale della candidatura quindi abbiamo visto i bisogni abbiamo stabilito gli obiettivi ora stabiliamo le attività che vogliamo inserire allora la candidatura vi lascia abbastanza dei margini di flessibilità questo ricordiamolo Irene appunto è la fase successiva che si diceva prima una volta ottenuto l'accreditamento ogni anno a febbraio il CA 121 però anche già nella candidatura gli chiedono un numero stimato esatto quello che dicevi prima quindi qui noi non dobbiamo dire quante persone andranno a fare quel job o quante studenti andranno nella fine a fare un'attività di visita un'altra scuola quindi la scuola sceglie un numero una stima una stima che riguarda sia perché la candidatura divide la mobilità tra dello staff quindi quando si parla staff si intende personale docente ma anche tutto quello che riguarda l'amministrativo tutto quello che riguarda il mondo della scuola e invece con learners si riferisce agli studenti cioè qui dovete semplicemente fare una chiamiamola così una proiezione questa proiezione però richiama sempre il principio di pertinenza che abbiamo detto precedentemente cioè io stabilisco che nel primo anno faccio spostare il progetto di fare un tot di mobilità per tot studenti e tot staff ma perché scelgo questo numero il modulo ve lo chiede vi chiede di spiegare come mai avete scelto quel numero pensate di incrementarlo pensate di che ci saranno delle variazioni questo non è vincolante quindi quello che scrivete in questo momento poi è suscettibile ad una serie di variazioni come appunto dicevamo prima legate a tanti fattori però in questo momento dovete di nuovo dimostrare la pertinenza con quello che avete precedentemente indicato possiamo andare avanti ecco questo quello che dicevo prima quindi l'abbiamo già detto ecco qui in questa fase in questo momento quando indicate il profilo del vostro dello staff e degli studenti è il momento in cui inserire anche la scelta che la scuola può adottare e consigliabile adottare anche partecipanti con minore opportunità quindi perché fate questa scelta in quale percentuale dovrete stabilire un po' inodare dei numeri che possono permettere a chi legge di far capire che quelle azioni che voi state facendo avranno un impatto sul sistema scuola e quindi anche i numeri scelti non sono mai casuali ma devono poi rapportarsi alla vita reale della scuola ovviamente è questo qui un altro consiglio che mi sento di darvi non fate dei voli pindarici assurdi perché se voi scrivete anche dei numeri troppo alti che poi diventano insostenibili perché la scuola ha una sua vita quotidiana non potete pensare di mandare troppi insegnanti in formazione e poi a scuola chi ci sta come si gestisce la sostituzione degli insegnanti che sono in formazione quindi ecco le attività devono essere oltre che pertinenti anche realistiche cioè devono rispetto al numero complessivo di studenti di staff che avete in quella scuola nell'arco ora si progetta per i prossimi tre anni posso fare una proiezione in cui magari il primo anno mi limito a un certo numero di studenti poi dopo aumento perché aumento oppure decido di fare delle scelte in cui magari la scuola decide per esempio il primo anno faccio spostare solamente i docenti ecco questo riparte sempre da quei bisogni dai documenti che voi avete citato all'inizio della vostra candidatura si va velocemente verso la parte degli standard di qualità ecco nella seconda parte del modulo praticamente il modulo vi indica Erasmus ha chiaro ovviamente quali sono i propri standard di qualità vi chiede di leggere attentamente di sottoscrivere questi standard di qualità poi dopo vi chiede di motivare e di spiegare per esempio in questo caso riguardo le quattro atti importanti che appunto diceva anche all'inizio Marcella l'inclusione l'ambiente la partecipazione alla vita attiva e democratica dell'Unione Europea di spiegare come la vostra scuola andrà a rispettare questi standard di qualità quindi quali saranno le azioni che la scuola metterà in atto qui è sempre importante magari già già le fasi nella vostra scuola queste cose indipendentemente dalle razze è anche utile fare un collegamento fra quelle che sono le azioni che la scuola ha relativamente all'inclusione tutte le scuole in anno ma sull'ambiente far capire però in che modo quello che magari già c'è già avete andrà ad integrarsi altra parola importante Erasmus e l'approvvisamento non deve essere qualcosa in più che si affianca parallelamente a qualcosa esistente ma deve integrarsi con quello che già fate quotidianamente nelle vostre scuole sto andando un po' lunga Marcella sono quasi alla fine mi sembra standard di qualità mi sembra che ci sia dopo una domanda che volevo fargli vedere se puoi andare avanti con le slide sì questo più o meno l'abbiamo già detto cioè le figure che si occuperanno del ecco un'altra cosa che volevo sottolineare le domande all'interno del modulo di candidatura c'è una domanda generale come in questo caso e poi ci sono delle sottodomande ecco vi consiglio di guardare sempre come viene sporzionata lasciatevi passare il termine a questa domanda in tre sottodomande quando voi rispondete dovete rispondere a tutte non solo alla domanda generale ma anche alle sottodomande facendo attenzione anche ai tempi verbali non sono casuali cioè prima vi chiedono di spiegare come avete scelto il coordinatore poi vi fanno fare una proiezione nel futuro come andrete a e quindi anche queste sono delle piccole diciamo non sono solo delle scelte stilistiche ma poi diventano anche dei motivi di contenuto a cui fare particolarmente attenzione la prossima riguarda ecco questa è un'altra cosa che a volte viene considerata un pochino un punto diciamo un vulno su un punto debole cioè spiegare come vi ho detto prima chi vi legge cioè il valutatore deve capire che quello che voi fate è una cosa che poi va a integrarsi nella vita quotidiana della scuola e quindi c'è una domanda specifica che è questa in cui vi chiedono come integrerete i risultati della scuola i risultati legati le mobilità quindi tutta l'azione d'Arasus delle attività della scuola anche questo è molto importante non siate generici non siate vaghi ma specificate proprio con degli esempi pratici concreti come quello che viene vissuto quelli che sono i risultati delle attività d'Aragus poi farà parte della vita quotidiana didattica delle vostre scuole perché anche questo è un elemento che nella fase di valutazione spesso ha riscontrato delle criticità e poi la parte finale sono quelli del sì anche questo si può andare avanti perché più o meno abbiamo già detto chi fa cosa la parte della disseminazione ecco anche questo è importante e ritorno sempre alla logica del modulo della webform come si disseminano i risultati qui avete ora nella nella slide sono venuti solamente ho messo solamente il punto B e C ma c'è anche il punto A cioè vi chiede di spiegare come disseminate i vostri risultati su tre livelli all'interno della scuola il punto B con le altre organizzazioni e poi come diceva prima Marcella quali sono le azioni per fare in modo che quello che voi avete vissuto abbia poi venga riconosciuto anche a livello europeo anche qui sono molto sono dovete fare molta attenzione ad essere coerenti con le attività che avete scelto con i bisogni che avete scelto e quindi piegare quale attività di disseminazione farete coerentemente in maniera pertinente a quello che è stato detto precedentemente vado avanti anche io Marcella vuoi dire se qualcosa sui criteri di valutazione velocemente ma no su questo se vuoi continuare tu era mi pare di over criteria velocemente qui ecco questo è un'altra cosa che è importante quando voi andiamo avanti quando voi scrivete la candidatura è importante che già sappiate quali sono alcuni elementi che poi saranno oggetto di valutazione da parte appunto del valutatore Erasmus un concetto molto importante è quello della proporzionalità cioè in questo diciamo che Erasmus è molto democratico nel senso che considera e dà valore proprio a questo principio cioè è chiaro se uno pensa a scuole grandi che magari hanno team di progettazione che hanno tantissima esperienza nel mondo Erasmus sono più facilitati ma invece Erasmus la valutazione Erasmus segue un pochino il principio opposto cioè quelli che non hanno mai avuto un accreditamento in Erasmus hanno un non dico un canale preferenziale perché non sarebbe corretto però hanno diciamo vengono visti con un occhio particolare come appunto il principio di proporzionalità un piccolo istituto di una zona diciamo un pochino più periferica con poche porte che però presenta un suo piano organico sicuramente il principio di proporzionalità lo lo può premiare e appunto come dicevo prima la coerenza tematiche trasversali sicuramente sono elementi importanti da un punto di vista numerico e mi sembra che sia la slide successiva ci sono alcuni ecco questi sono i punteggi diciamo e questo è importante che lo teniate in considerazione perché vi serve poi anche quando scrivete cioè il punteggio è in centesimi il modulo di candidatura è questo questo sulla parte sinistra che abbiamo visto velocemente background obiettivi attività gestione i criteri di valutazione sono dieci punti diciamo la rilevanza cioè in che modo voi avete dimostrato che il vostro background è rilevante e coerente con quelle che sono le caratteristiche radus il vostro piano radus gli obiettivi che ha appunto un peso importante perché sono i 40 punti il piano delle attività esatto anche qui poi ritorna se non può andare avanti più o meno la stessa slide e poi la gestione ecco ricordatevi che per avere l'accreditamento occorre aver totalizzato almeno 70 punti su 100 e per ogni singolo criterio bisogna avere prendere diciamo almeno per esempio se il primo criterio è 10 dovete prendere almeno 6 perché altrimenti basta che uno dei criteri non sia sufficiente per far decadere tutta la candidatura questo per spiegarvi quanto sia importante e quanto sia fondamentale per una buona una buona candidatura rispettare il principio della coerenza e dell'originalità io riprendo la parola io grazie Irene allora andiamo un pochino più nel particolare ne concludiamo così della progettazione abbiamo visto prima alcune domande che si trovano dentro la candidatura e qua diciamo che è uno schema per una progettazione che possa seguire le indicazioni i consigli che vi abbiamo cercato di dare finora in realtà è uno schema che non vale solo per l'accreditamento ma per una pianificazione di un progetto in generale anche di altri progetti Erasmus quindi un K220 un K122 eccetera quindi l'ideazione con l'analisi dei bisogni comuni si diceva appunto prima partire dai bisogni della scuola perché un valutatore si accorge quando le frasi cosiddette sono fatte no si parla in generale di inclusione in generale di tematiche che tutte le scuole percorrono chi più chi meno a seconda appunto del background quindi è molto importante riferirsi ai numeri della propria scuola a statistiche a riferimenti specifici per dimostrare poi l'obiettivo che metterete come può colmare e aiutare a sopperire eventuali bisogni o mancanze della scuola e quindi la corrispondenza con le tematiche che si diceva prima dell'azione del programma le quattro tematiche che abbiamo visto prima i principi fondanti e la ricerca poi di partner ad hoc che come si diceva non va però nella progettazione iniziale del K120 né nel K121 o meglio nel K121 non va scritta ma è bene averla chiara perché nel momento in cui io vado a chiedere due mobilità di gruppo per ragazzi un corso strutturato per staff e docenti devo capire quindi condividere con la scuola le opportunità che si possono prevedere per quell'anno che poi si vanno a spalmare negli anni che restano fino al 2027 e in base alle richieste che diceva prima Irene si sono fatte coerenti con il numero degli studenti con la tipologia dei partecipanti eccetera e quindi so che c'è un progetto che va finanziato in un certo modo perché mettiamo in Svezia e quindi costa un po' di più mentre un altro scambio un altro progetto che è più vicino noi ne avevamo uno a Verona con Rosenheim ci si andava in treno viaggio green tra l'altro con i viaggi green basta indicarlo nel momento del K121 dicevo bisogna sapere a chi vanno dove si va in modo tale a distribuire coerentemente o in maniera trasversale come dicevo prima le mobilità da chiedere nel K121 quindi un piano ci deve essere ma non va stabilito non va scritto nel K121 infatti si può anche cambiare si può stabilire che manderemo quelle classi in maniera trasversale due per classe in Francia ad aprile dell'anno successivo per una settimana mobilità di breve termine di gruppo poi nel frattempo succede qualcosa il progetto decade il partenariato decade per qualsiasi motivo noi avevamo per esempio uno scambio con la Polonia previsto finanziato con Erasmus poi è scoppiata la guerra in Ucraina la Polonia era pericolosa e quindi saltò la Polonia e si scelse poi di trasferire quel finanziamento su Madrid ecco questa flessibilità del K121 lo permette ma è bene che la scuola invece però da ottobre che si iscrive la K120 fino a febbraio insomma arrivare a febbraio con una concertazione una richiesta anche ai vari dipartimenti di idee progetti scambi partenariati possibili perché magari il collega ha già un partner ha già un collegamento oppure un partenariato storico eccetera eccetera poi la pianificazione degli obiettivi comuni questo è molto importante gli obiettivi possono essere tre cinque non esageriamo veramente in base a quello che la nostra scuola davvero necessita altrimenti non c'è più coerenza come dicevo prima e questo un valutatore lo percepisce poi si passa quindi a pensare questo progetto che stiamo scrivendo che tipo di implementazione avrà e quindi le attività e l'aggiungimento di obiettivi come verranno svolte il monitoraggio la valutazione come diceva prima Irene molto molto importanti cercare anche di variarli perché spesso sono un copia in colla invece finalizzati per esempio faccio un altro esempio un obiettivo finalizzato allo sviluppo delle competenze sulla metodologia CLIL da parte di docenti in particolar modo verrà monitorato perché si chiede ai docenti che partiranno per il corso strutturato che è stato previsto nelle attività di questo obiettivo dentro il K120 quindi creare attività come corsi strutturati per i docenti affinché si raggiunga questo obiettivo e i docenti poi che partiranno dovranno garantire almeno un corso CLIL in una delle loro classi e quindi con la successiva valutazione che può anche essere fatta attraverso le certificazioni in quella lingua alla fine dell'anno e poi la conclusione del progetto con i risultati implementati l'impatto quindi le organizzazioni coinvolte sul territorio anche perché spesso questi progetti poi portano a un coinvolgimento a un service learning del territorio e la disseminazione come diceva prima Irene attraverso i canali della scuola interna il sito oppure spesso si fanno pubblicazioni attraverso i canali locali media locali ecco poi la questione sostenibilità per l'appunto in questa TCA dove sono stata era la priorità e un po' tanto devo dire forse troppo eravamo un po' concordi si sta spingendo spingevano sul progettare strategie per creare mobilità il più possibile sostenibili ovvero friendly le chiamano green quindi cercare di prendere meno eri possibili usare mezzi pubblici ora gli esempi che ci hanno fatto in Svezia secondo me non solo secondo me erano un po' esagerati anche perché noi sappiamo insomma partiamo una settimana non abbiamo poi tre giorni per viaggiare due giorni per viaggiare non possiamo stare lontani da scuola più di tanto è anche un rischio è un costo maggiore è vero che mettendolo nel cacianto 21 che la mobilità verrà fatta in maniera sostenibile sia un implemento però spesso non così che non copre poi i costi magari di un treno a fronte di aerei ma certamente magari ecco comunque pensare a delle strategie non si può andare nel mio caso che insegno spagnolo l'anno scorso amato in scambio a Santiago si può andare a Santiago in treno non ne abbiamo abbastanza di tempo ma nel momento in cui si è in loco invece sì far camminare i ragazzi farli viaggiare con i mezzi pubblici spostarsi appunto in treno anziché prendere un autobus privato per spostarsi dall'aeroporto o da una città all'altra ecco che questo viene molto valutato queste sono le domande che faceva vedere prima nel modo candidatura parte delle domande insomma principali per le challenge e le presentazioni quindi le finalità i vostri obiettivi dove chi sono le persone coinvolte quindi la vostra presentazione il vostro background e poi troverete questi questi incipit a fare da cappello ai vostri obiettivi che appunto possono essere tre cinque mi pare i rene fino a dieci si possono mettere noi ne mettiamo cinque ma ho visto noi nella ultima candidatura ne abbiamo messi tre e secondo me ecco tre quattro è forse il numero poi non esiste un giusto sbagliato però effettivamente rimanere circoscrivere sennò diventano troppo generici per cui anche l'obiettivo deve essere un obiettivo circoscritto e come dicevamo sempre prima sempre collegato a un bisogno quindi se loro mettono anche quando individuano i bisogni alla scuola ha tre mila bisogni quindi deve scegliere quali bisogni lavorare ne mette tre quattro e poi su quei bisogni individua gli obiettivi sì ecco queste domande sono in inglese ma voi potete anzi scrivere meglio in italiano la candidatura perché appunto non siete non avete coinvolto ancora dei partner stranieri in un K220 si può scrivere in italiano ma poi comunque va messa la candidatura anche in inglese perché lì invece ci sono già i partner coinvolti o in un consorzio ma no in consorzio perché comunque è italiano si può scrivere anche in inglese ma in realtà ecco nell'accreditamento io lo sconsiglio almeno lo sconsiglio madrelingua inglese ecco o un'altra lingua perché teoricamente potrebbero scegliere anche un'altra un'altra lingua perché in questo caso poi i valutatori generalmente sono italiani quindi come dicevo prima siccome la scelta lessicale il termine la sintastica ha un'importanza proprio nell'ottica anche del fatto che dobbiamo limitare quello che dobbiamo scrivere ed essere pregnanti per cui forse usare la lingua madre può poi usare esatto quindi si riutilizzano poi questi incipi per ogni obiettivo questo è un esempio di K121 ma appunto quello che dicevo prima nel nostro caso la scuola in quel caso era il dipartimento di lingue che gestiva era sempre le mobilità ma è ben accetto anzi consigliabile coinvolgere docenti anche non di lingue quindi gli altri dipartimenti quindi è stato inviato questo modulo in drive che chi voleva poteva compilare dicendo ma io avrei in mente una mobilità per 15 studenti a breve termine quindi minimo 10 giorni per questo progetto che era il mio aperto cammini con due accompagnatori vista preparatoria no invece altri colleghi avevano proposto questo era per il primo anno questo per il secondo anno altri colleghi avevano proposto appunto la Svezia con un scambio trasversale tra più tra più classi di indirizzi diversi la Polonia eccetera eccetera e poi avevamo previsto un corso specifico per 5 docenti e 3 membri dello staff di 7 giorni che poi il secondo anno è diventato di 15 giorni d'estate preferibilmente se si può questi corsi si fanno fare ma è un obbligatorio per non far perdere ovviamente giorni di lezione ai colleghi e anche per non avere i problemi di sostituzioni è un corso CLIL appunto in Irlanda anche qua non è la sta prevista una misa preparatoria oppure invitare esperti come dicevo prima su temi specifici per seminari e quindi lezioni da dare principalmente non agli studenti ma proprio ai docenti e allo staff ecco qui velocemente ora abbiamo un po' iniziato poi lo riprenderemo magari faremo un qualcosa proprio di specifico anche sui misuratori sul monitoraggio che sono un po' i punti deboli abbiamo visto nella progettazione con l'uso dell'intelligenza artificiale che ormai è la rapidità della luce sta entrando nelle nostre classi nelle nostre vite fa paura ad alcuni ad altri meno ma è inevitabile questo questo è un dato di fatto e dobbiamo questo a mio avviso io tra l'altro insomma coordino le equipe formative territoriali in USR quindi noi ci occupiamo proprio di formazione insegnanti su questi temi metodologie didattiche innovative e in questo momento molti dei nostri corsi e sempre di più hanno l'integrazione con l'intelligenza artificiale ed è un progettare con me appunto non per me questo questo che sto per dire quello che dirò da ora in poi vale per la progettazione Erasmus come vale nelle nostre classi e quindi deve arrivare molto chiaro magari all'inizio bisognerà insistere ed educarli bene in questa fase di transizione rivoluzionaria questa è la quarta rivoluzione di fatto al fatto che l'intelligenza artificiale non può fare il lavoro al posto nostro anzi al contrario se non si conosce la materia in questo caso nostro in questo momento il background della nostra scuola le priorità di Erasmus tutto quello che abbiamo detto io e Ren fino adesso e quindi la coerenza gli obiettivi quindi avere un'idea chiara di dove si vuole andare in testa di progettazione l'intelligenza artificiale non può saperlo e quindi pur di risponderci inventerà cose pasticcerà creerà cose asettiche una progettazione che un valutatore ovviamente come noi ci dovremo abituare a valutare i nostri studenti su altre forme accettando anche che usino per fare delle presentazioni di intelligenza artificiale e su altri livelli così un valutatore può accettare che ci siano delle parti un aiuto perché non ho più la pagina bianca che oddio devo scrivere il progetto no ho una base però su quella base poi io devo controllare devo metterci le mani devo metterci la mia unicità la mia originalità la mia creatività e quindi il senso critico verrà secondo me sempre più messo in primo piano nella valutazione sia per i nostri ragazzi che nel nostro caso come progettisti quindi è un supporto un aiuto non un sostituto allora questa scrivere un prompt engineering ha una sua tecnologia una sua struttura noi per primi ci dobbiamo abituare a usarli a crearli a scriverli bene poi ci sono delle delle chat GPT però solo quella persona a pagamento oppure MISU che invece è più classificata più curvata sulla scuola come come intelligenza artificiale come risorsa hanno la possibilità proprio di creare danno la possibilità di creare degli assistenti quindi io mi creo un assistente per progettare Erasmus un assistente per pianificare le azioni di spagnolo e poi continuerò via via ad allenare quell'assistente che diventerà sempre più esperto della materia grazie alle mie informazioni al mio input quindi mi fa diciamo il lavoro sporco ma la base non gliela può la creatività l'idea non la può non la può non ce la può dare e quindi scrivere un buon prompt è la prima base non bastano due parole come diceva prima Irene le parole chiave la sintassi sono essenziali non possono essere asettiche non possono essere parole che valgono per tutte le scuole ci sono delle parole che possiamo solo noi sapere e quindi dare in pasto in questo caso a una progettazione a una a una macchina definire chiaramente l'obiettivo quindi tutto quello che si è detto finora avere chiari in testi gli obiettivi le finalità eccetera vale se uso l'intelligenza artificiale se non li ho chiari in primis se non li ho condivisi l'intelligenza artificiale può solo danneggiarmi non può aiutarmi per strutturare un prompt questo è pocale la una una definizione no un acronimo che è stato che raccoglie i punti principali per scrivere un prompt per i profili obiettivi context audience quindi tenere in conto questi elementi la definizione dell'obiettivo lo scopo in primis io gli devo dare il mio obiettivo in maniera chiara quindi strutturare il prompt con l'introduzione una domanda una richiesta dicendogli come deve agire quindi agisci come un insegnante di lingua spagnola per la progettazione di una lezione su Cervantes per una classe quarta di liceo linguistico italiana con allievi di livello B1 e due allievi BES con problemi i dettagli o i vincoli non superare i tot caratteri come diceva prima Irene per esempio per ogni domanda che io posso dare in pasto poi all'integrazione artificiale c'è un tot di caratteri file e tabelle struttura come per una presentazione eccetera eccetera i vincoli che voglio dargli io poi il pro ecco è un'interazione poi si continua ad allenarlo a sperimentarlo a farete a modificarlo si può modificare il prompt e continuare a migliorarlo eccetera eccetera l'ottimizzazione ecco questo è un esempio ma scritto veramente molto velocemente anche per farlo stare nella slide voi potete scriverlo in maniera più ampia più circostanziata però ecco lo scopo è agisci come un docente che sta scrivendo cosa qual è lo scopo scrivere un progetto di accreditamento Erasmus K120 e lui che pesca nella rete sa benissimo cos'è un K120 ma lo devo sapere anche io perché se gli dico K122 lui va da un'altra parte per quale tipo di scuola che ha molti studenti immigrati tra gli iscritti io sono stata molto sintetica qua ma appunto è bene essere invece più ampi possibile la scuola in questione ha tre indirizzi quindi scientifico linguistico socio-economico il livello sociale è molto ampio e quindi qua è l'introduzione i principi da mantenere come focus dell'intero impianto sono e qui io ho riportato le quattro priorità trasversali quindi ho dato i dettagli che rimandano in nostro caso ai principi base dell'accreditamento che abbiamo visto prima il formula compilare e i vincoli prevede le seguenti parti che non devono superare i mille caratteri in realtà poi dopo sotto gli avevo dato proprio quattromila per ogni accanto alla domanda sembra che siano quattromila in questa ecco esatto sì sì e vanno suddivise all'interno della struttura del progetto tenendo in considerazione il background dell'istituto quindi questa domanda ora io non ricordo magari prevede mille caratteri metto qua mille caratteri la seconda domanda vale tremila caratteri prevede li metto qua e lui seguirà strutturerà le varie domande seguendo questo output ok no scusate e quindi adesso sarebbe il momento che poi però mi va mi va nella mi va in fondo no allora aspettate perché intanto Irene se volete dire qualcosa io prendo l'altra presentazione perché c'ho i link mentre parlavi mi venivano in mente alcune cose che forse precedentemente non ho detto per quanto riguarda i documenti strategici ecco per esempio un consiglio che potrebbe essere utile è quello di far vedere sempre a quelli a chi vi legge che c'è una strategia sull'internazionalizzazione all'interno del vostro istituto cioè far capire che nel vostro istituto se c'è nel caso in cui esista oppure anche se non c'è che avete progettato di lavorare di implementare la dimensione internazionale del vostro istituto e quindi questo per esempio potrebbe essere un documento da allegare nel caso in cui sia stato già stilato nel caso in cui sia stato per esempio presentato al collegio dei docenti e quindi ci sia stato un lavoro di gestazione di genesi ecco questi sono altri elementi che da parte di coloro che vi leggono vengono considerati importanti perché fanno capire che quello che voi state facendo cioè questa questa richiesta di questo accreditamento come ho già detto precedentemente fa parte del sistema scuola cioè la cosa importante la cosa fondamentale è che venga fuori appunto che quello che voi fate avrà poi una ricaduta a livello di sistema di scuola non deve essere mai dimmi quando sei pronta Marcella sì sì sono pronta sì sì perché non deve essere mai collegato alla singola classe gli stessi docenti facciamo un altro mito che l'Eraflos è degli insegnanti di lingua straniera io insegno inglese Marcella insegno spagnolo ma il team che lavora anzi è fondamentale che voi quando spiegate chi è chi sono i componenti del vostro team mettiate anche che ci sono persone che fanno parte di vari dipartimenti vari indirizzi se siete un comprensivo infanzia primaria e secondaria di primo grado ecco qui riprendo questa slide che dicevo prima la conoscenza la chiarezza che se non li abbiamo si fa sempre l'esempio perché poi lui vuole rispondere lui lei vuole rispondere quindi se non diamo dei buoni input chiari sicuri lui va a pescare qua e là o se le inventano le cose per cui in realtà siamo noi che dobbiamo guidarlo allenarlo o allenarla chat bt adesso è una versione ancora gratuita permette di fare quello che vi faccio vedere tra poco io non ho ancora la versione a pagamento quella a pagamento lo facevo vedere in presenza l'altro giorno in realtà ha potenzialità maggiori ovviamente per esempio si possono dare gli input a voce si possono inserire direttamente i documenti quindi io scrivo in condivisione su drive con altri colleghi con la commissione il progetto il background della scuola oppure inserisco direttamente il form le domande e quindi chiedo alla chat di seguire il form di rispondere di compilare il form seguendo però le indicazioni che do io sulla base della scuola che è la mia che io scrivo e posso caricare direttamente il file quindi questo è quello che vedevamo prima e qua nel momento in cui vado a scrivere gli obiettivi allora prima gli do questo prompt allora vediamolo io lo copio lo copio cosa ho fatto mi sono messa in primo piano volevo togliermi vabbè oggi un po' così si vede comunque allora lo copio lo incollo qua e lui sta scrivendo o lei questa è come dicevo prima la base per non avere il foglio bianco comunque con delle indicazioni sulla mia scuola che poi però io devo assolutamente integrare non è sufficiente un valutatore se ne accorgerebbe e comunque non è sufficiente e anche perché come dicevamo anche l'altra volta in presenza l'originalità viene anche prima le candidature per l'accreditamento ma per tutti i progetti era prima di passare a quella che è la valutazione proprio di qualità viene fatto un primo screening per vedere se ci sono degli hanno dei sistemi molto sofisticati molto specifici dove vedono se ci sono le candidature sono il risultato di copia e incolla di altre candidature preesistenti quindi ecco questo e generalmente gamano subito quelli che hanno fatto questo tipo hanno proprio questo sistema ultra sofisticato per cui viene proprio indicato la fonte da quale è stato ripreso per cui ecco come un modello sì però poi ripersonalizzato sì e dicevo quindi fatto la parte generale si passa agli obiettivi allora io adesso qua ho dato 5 obiettivi che sono poi ripresi sempre dalla forma dalla guida dell'erasmus dalla guida erasmus che trovate anche linkata nelle slide o comunque facilmente reperibile su internet quindi i criteri da seguire che sono indicati nella guida sono gli obiettivi proposti rispondono in modo chiaro e concreto alle esigenze dell'ente dello staff per coordinatori di consorzio ecco questo criterio si apre eccetera eccetera quindi io ho tenuto conto di questo glielo ho dato come prompt diciamo così e poi in questi 5 obiettivi le sezioni da compilare ed evidenziare sono come vi dicevo prima titolo e gliele metto nel prompt poi ho messo i titoli quali sono quindi i titoli in questi 5 obiettivi le sezioni da compilare ed evidenziare sono questi e i titoli e gli obiettivi sono dato dei titoli molto così velocemente clilo non clilo questo è il problema in cammino con la scuola attività di outdoor learning e service certificazioni linguistiche per tutti tutte scambio scuola scambio esperienze cercasi qui in questo caso gli do anche un vincolo in più perché queste attività dentro questo questo obiettivo saranno a lungo termine mobilità a lungo termine per docenti per studenti presso altri istituti e l'ultimo go away to come back in other way quindi anche questo io lo prendo e va bene oggi e lo andò in pasto io ho preso chat cpt ma che diciamo allora chat cpt è molto più strutturato molto più sofisticato in realtà per la scuola ce ne sono varie magic school miso si diceva prima però per una progettazione erasmus come un'azienda chat cpt oggi finora secondo me non solo secondo me ha degli standard di performance molto più elevati molto più raffinati e quindi per ogni obiettivo lui risponde ai vari input che mi dà che mi dà la webform e li completa allora poi io vado a leggerli con la mia commissione e decido come integrarli perché vedete comunque c'è un po' pochino anche come è scritto non gli ho dato il vincolo dei caratteri posso anche abbreviarlo di più oppure adesso continuare a chattare e dirgli no guarda allunga scrivi un po' di più parafrasa eccetera eccetera allora vediamo per esempio l'ultimo riesco l'ultimo obiettivo organizzare mobilità cosa voglio ottenere all'esso per docenti al fine di migliorare le loro competenze professionali introdurre nuove metodologie didattiche nella nostra scuola e qui magari vado a specificare quali nello specifico metodologie didattiche quindi i miei corsi strutturati le mie attività specifiche mobilità posso appunto specificare che saranno mobilità a breve termine con corsi strutturati focalizzati sul storytelling sulla le stem sul multilinguismo eccetera eccetera perché queste attività rispondono a un gap che io ho descritto nella mia progettazione nel mio background perché per esempio nella mia scuola di Verona c'era effettivamente un gap a livello di progettazione CLI l'avevamo provato con dei corsi interni alcuni colleghi che avevano delle competenze riuscivano a fare qualcosa con i colleghi di lingua e quindi un CLIL misto però diciamo che era tutto un po' dettato dalla buona volontà e quasi non obbligatorio un po' non seguito non lineare non strutturato attraverso questi corsi e quindi la partecipazione di docenti a questi corsi strutturati è diventato un qualcosa sempre più di presente strutturato e ripetuto i docenti parteciperanno a corsi di formazione conferenze visite a scuole estere per apprendere nuove pratiche educative appunto e quindi questo obiettivo come si rifà al background affronta la necessità di migliorare le competenze digitali metodologiche dei docenti che a loro volta contribuiranno all'inizio però vedete come lui lei rimane generico questo vale per qualsiasi scuola io qua lo devo rideclinare e ridire perché nella mia scuola ci sono pochi docenti come? no no scusami Marcella confermavo quello che stavi dicendo ci sono pochi docenti che si sono formati che hanno seguito i corsi per esempio del DM66 abbiamo avuto un'utenza poco attiva poco partecipativa a questi corsi adesso c'è il DM65 66 e quindi dobbiamo incrementare le competenze digitali che chiaramente poi a cascata vanno nelle classi ecco questo quello volevo far vedere se ci riuscivo perché può essere utile anzi è sicuramente utile l'intelligenza artificiale per organizzare il lavoro gli strumenti di supporto questo anche nella nostra attività datica quotidiana anche nella traduzione di testi contenuti perché io devo dire che fino ai traduttori online a parte qualche parola sui vocabolari online non mi fidavo non li utilizzavo le traduzioni effettivamente adesso fatte dall'intelligenza artificiale vanno sempre controllate questi nostri studenti noi insegnanti di lingua lo devono sapere perché basta una parola fuori posto e mi accolgo che non l'hai riguardato il testo e quindi te l'ha fatto qualcun altro aiutati pure ma poi lo devi rivedere mi è successo adesso con il K220 e per fortuna l'ho ricontrollato perché animatore digitale me lo aveva tradotto con una parola che in inglese significa creatore di fumetti di cartone animati ecco quindi un valutatore vede una cosa del genere è chiaro che poi ti fa aiutare dall'intelligenza artificiale ma se poi il lavoro non lo fai tu si vede il risultato che è un po' tirato via e non calibrato e dare informazioni specifiche appunto e suggerimenti lo possiamo usare più che altro per aiutarci a ottimizzare il lavoro ma l'immaginazione e la creatività non possono mancare sicuramente incide sui meccanismi di apprendimento e inciderà anche sui nostri meccanismi di creazione di materiali di progettazione del lavoro è molto utile in realtà nella correzione degli errori che i nostri studenti non si rileggono mai qua saranno obbligati a farlo perché non si possono fidare totalmente o comunque possono dare in passo una loro produzione alla macchina all'intrigenza artificiale e constatare gli errori a autovalutarsi no? dicevo giovedì avevamo fatto degli esempi di creazione anche di bandi e poi di compilazione di learning agreement perché ora adesso siamo nella fase in questo webinar di progettazione per chi deve ancora presentare un accreditamento quando poi però lo otterrete se lo otterrete e farete le mobilità che avete chiesto col K121 prima di partire poi una volta aspettata la mobilità ci sono vari documenti da gestire normalmente li carica il referente nella piattaforma apposita e tra questi appunto l'allegato 5 il learning agreement volendo ma non è obbligatorio l'euro pass mobiti che comunque va a incrementare i crediti l'attestato di partecipazione dei partecipanti il complement eccetera il learning agreement complement eccetera e questi sì questi sono invece documenti molto statici un learning agreement ora non so se ancora è collegato sì il mio questo è il learning agreement che avevo fatto io per la mobilità credo fosse il mio questo sì cammini è fatto così e prima di partire io devo specificare gli obiettivi di quella mobilità cosa si va a lavorare dove si va in che quali skills si vanno a sviluppare su cui si centreranno le attività quali metodologie utilizzeremo come saranno i parametri di valutazione quali strumenti di valutazione sia in itinere che al ritorno quindi tante cose dettagliate che possono poi anche cambiare per carità però una progettazione con gli altri partner andrà fatta che poi andrà anche fatta a firmare alle varie parti ecco questa qui non c'è sì un po' nell'attività chiaramente lo devo sapere io se faccio un progetto cammini vedete questi sono la descrizione dell'outfit necessario gli strumenti da portare quello che viene un'invenzione che avevano fatto i francesi quindi i risultati che sono stati già ottenuti o che si vogliono ottenere una caccia al tesoro che verrà fatta a Pontevedra perché andavamo a Pontevedra eccetera eccetera un debate quindi in base alla mia attività lo so io quali sono le cose migliori che le posso dare in pasto ma altrimenti è un riempimento di un qualcosa di molto molto statico quindi qui l'intelligenza artificiale mi può aiutare davvero come anche nella relazione finale lì in questo caso l'originalità non è non è anche perché questo non viene valutato questi sono atti che rimangono agli atti che rimangono nelle vostre scuole protocollati poi random come in tutti Erasmus finora l'agenzia sceglie random delle scuole da controllare da monitorare e quindi quei fogli quei documenti poi vanno mostrati come le fatture delle mobilità eccetera ma altrimenti possono rimanere lì nessuno li vedrà mai più non vengono non sono oggetto di una valutazione con finalità di finanziamento eccetera e si diceva e concludo quando poi si ottiene accreditamento e si progettano delle mobilità ovviamente bisogna scegliere chi va in queste mobilità ho un conto che faccio una mobilità su un progetto specifico di quella classe quindi va la classe ma se è trasversale su più classi quindi bisognerà scegliere i ragazzi con un bando o se è una mobilità a lungo termine quindi per pochi studenti perché con il budget non è che ci si può permettere un studente può andarvi anche un anno però poi il budget si esaurisce in quella mobilità quindi si cerca di distribuirla a più persone possibile stessa cosa per i docenti con i corsi o con il job shadowing e quindi si si costruisce un buon bando che secondo me Irene forse non dovrebbe avere una lettera di motivazione quando riguarda i docenti perché è un po' troppo soggettiva piuttosto un progetto se si va a fare un corso CLIL si fa domanda per andare a fare un corso CLIL qual è il progetto che poi porteresti nelle classi una volta al ritorno questo mi può interessare mentre una lettera di motivazione per degli studenti può può essere il caso perché ancora devono forse ben capire cos'è Erasmus cosa vanno a fare quindi dimostrare che hanno un quadro ben preciso che non è solo un viaggio vacanza anzi non è un viaggio vacanza per loro in parte poi lo è ma ma c'è anche molto altro e e poi deve essere un bando eco ecco un bando che a turnazione fa partecipare più persone possibili della comunità perché il fine di Erasmus è proprio formare più persone possibili quindi non si va per merito è chiaro che su un bando CLIL chissà l'inglese io voglio fare un corso strutturato in Irlanda e mi dimostra che una certificazione che ha un B2 ha un vantaggio ma lì c'è una motivazione specifica c'è un un corso specifico in cui sapere la lingua poi ha una ricaduta didattica altrimenti potrebbe anche non essere non essere così e non va per merito anzi spesso anche nelle TCA che non sono riservate solo agli ambasciatori ma a tutti i docenti si chiedono si chiede di partecipare si privilegiano i docenti che non hanno esperienza specialmente nei twinning per esempio e quindi che partecipino a queste attività all'estero queste TCA queste formazioni proprio per cercare parte per capire come si costruisce un progetto per iniziare un progetto che da soli farebbero magari fatica a a a a strutturare a a iniziare se ce la faccio vi volevo far vedere questa piattaforma che vi dicevo prima che dovrebbe essere questa sì più più centrata sulla sulla scuola purtroppo è o in inglese o in francese io preferisco il francese e quindi c'è qua voi fate la vostra iscrizione con io insomma la faccio sempre con il mio il mio account istituzionale e vi da varie varie vedete ecco appunto io ho già fatto la registrazione e quindi posso poi accedere questa dà la possibilità anche di fare degli esercizi per esempio per le lingue di creare delle chat strutturate per esempio in un ristorante spagnolo con un cameriere che è vedete qua che è l'intelligenza artificiale e si può condividere con gli studenti in vari modi adesso non ho il tempo di mostrarvelo ma è abbastanza intuitivo e quindi nouvelle session noi abbiamo la possibilità poi di vedere la classe quindi quello che loro stanno scrivendo e loro interagiscono in lingua con 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 il chat a cui posso dare un nome un'immagine la situazione proprio ecco anche lì dare delle informazioni molto specifiche creare un ambiente di lavoro per praticare le lingue in maniera anche abbastanza realistica autentica come vi dicevo si possono creare gli assistenti le proprie nostre chat gli assistenti in questo caso questo è ancora gratuito quindi non come chat GPT invece solo in maniera in maniera a pagamento questa questa funzione è permessa e Magic School che è molto strutturata molto strutturata per la creazione soprattutto per noi insegnanti per la creazione di materiali quindi rubriche lessons plans vedete ecco io posso mettere i miei preferiti come io ho messo qua che uso di più quindi lesson plan oppure fare anche dei test scelta multipla creare delle mail oppure il feedback per gli studenti quindi mi aiuta poi è chiaro che sono io che so quale feedback sto dando a quello studente che tipo di studente è che bisogna che problematiche ha quindi glielo devo dire alla macchina se non ho la preconoscenza questo questo non mi aiuta ecco io ho finito volevo dire l'ultima cosa magari prima di passare alle domande e ovviamente tutti quando ritornando alla candidatura ricordatevi che quest'anno la candidatura per l'accreditamento di CAC 120 è il primo di ottobre l'anno precedente era il 19 di ottobre è stata anticipata il primo di ottobre quindi come appunto diceva Marcella all'inizio è importante che il lavoro venga già fatto ora durante l'estate perché poi rientro a scuola a settembre tante cose da fare da sistemare il primo di ottobre arriva velocemente e un'altra cosa ovviamente tutti noi quando ci apprestiamo a scrivere una candidatura scriviamo perché vogliamo e speriamo che questa candidatura venga approvata e quindi poter accedere a queste opportunità però devo dire questo anche per l'esperienza personale che scrivere una candidatura è una sorta un po' di io lo vedo una stabilità di formazione perché veramente scrivere e soprattutto entrare all'interno del mondo della scuola vedere del no della nostra scuola cercare di trovare quegli elementi su cui lavorare e poi rielaborarli come in questo caso con l'aiuto dell'intelligenza artificiale ma anche come dicevamo prima attraverso documenti è veramente un'attività utile tra l'altro considerate che quando voi presentate la candidatura nel caso in cui non venga approvata Erasmus vi invia una lettera diciamo spiegando come appunto si va a scuola o fa con i nostri studenti spiegando quali sono stati i punti deboli che hanno portato magari a una valutazione che non ha raggiunto quella soglia del 70 su 100 quindi ecco io lo vedo proprio come un'attività formativa per noi insegnanti non è facile progettare non siamo neanche stati formati per progettare o non totalmente formati per progettare quindi è anche un'opportunità di crescita professionale molto importante e qui mi fermo dobbiamo ci sono delle domande sì se magari io alcune domande avevo risposto mentre tu parlavi più tecniche se Antonietta ci mostra il file magari lo vediamo insieme si fa prima magari o se no aspetta provo a condividerlo io io non le ho guardate per niente perché ero immersa nella aspetta perché lo devo riprendere eccolo qua allora aspetta che condivido si vede no adesso si vede ok quindi queste prime tre ho risposto io la scadenza ad ottobre quindi per gli insegnanti cosa significa nel senso la scadenza ad ottobre è per la compilazione la presentazione del form relativo al K120 poi può essere un K120 settore scuola come diceva prima Irene VET quindi educazione degli adulti un consorzio ed è il primo ottobre dentro l'accreditamento poi le mobilità come abbiamo detto sono sia per gli insegnanti che per gli alunni che per lo staff poi per un progetto K122 avevamo ottenuto un punteggio di 85 ma il progetto non fu approvato perché questo dipende dalla quantità di fondi che hanno a disposizione per cui può darti ora io ho detto la soglia del 70 riguarda il K120 ora onestamente per il K122 non mi ricordo qual è la diciamo la soglia consentita però spesso succede come dicevamo all'inizio che i fondi sono gli stessi le domande sono aumentate e quindi la schicella diciamo viene alzata quindi probabilmente il fatto che non sia stato finanziato potrebbe dipendere dal fatto che non ci siano stati abbastanza fondi per poter finanziare il progetto poi vedo questa domanda un istituto che comprende primario e secondario di primo grado quindi sono studenti minori difficilmente riceverete partecipare nella modalità degli studenti allora in realtà anche io ho lavorato per tanti anni in un comprensivo in cui avevamo un progetto Erasmus attivato e appunto noi facevamo mobilità anche per esempio con gli studenti della primaria o della secondaria di primo grado quindi il fatto di cioè questo è un'opportunità che l'accarditamento Erasmus dà ai nostri studenti e considerate che quando fate mobilità lo dicevamo all'inizio le mobilità degli studenti quelli che vengono definite mobilità di gruppo quindi gruppi di studenti anche lì ovviamente il gruppo deve essere non troppo ampio altrimenti i fondi finiscono in un attimo però quindi giocando un pochino sulla definizione del gruppo i gruppi di studenti sono sempre obbligatoriamente accompagnati da un accompagnatore e quindi questo permette di poter spostarsi anche con studenti minorenni solo per le mobilità degli studenti di breve e lungo termine individuale allora in quel caso non è obbligatoria la figura degli insegnanti o degli insegnanti che li accompagna durante la mobilità esatto anche se sono minori noi abbiamo mandato ragazzi di quarta un mese chi in Francia chi in Spagna ecco chiaramente ci trovavamo di mandarli dove avevamo già dei partenariati degli storici quindi conoscevamo i colleghi però insomma non è anche questo obbligatorio appunto ci sono le visite preparatorie anche per questo no si mandano i ragazzi via per lungo termine e no volevo dire un altro su questo sempre nell'attriciali in Svezia dove ero c'erano molte scuole invece che avevano appena ottenuto l'accreditamento avevano studenti di primaria e è chiaro che il tipo di mobilità è diverso perché una mobilità a lungo termine per uno studente non si può prevedere in quel caso anche noi al liceo si mandava via quelli di quarta non quelli più piccoli quelli di quinta no perché poi avevano gli esami ma ecco quelli più grandi possibile e però hanno ottenuto l'accreditamento avevano molta progettazione molta voglia di cercare partner sicuramente saranno mobilità con minori studenti più piccoli gruppi ma si possono poi fare tutte le altre attività per i docenti per invitando invitando insegnanti facendo job shadowing e poi la cascata sugli allievi facendo attività blended appunto con gli allievi ci sono progetti twinning meravigliosi della scuola primaria per cui no è vero questo non c'è non c'è un limite anzi è sempre una scelta che fa la scuola e non è negativo non è negativo nel senso che se è coerente è chiaro che appunto non è valutato negativamente il fatto che non ci sono moviti a lungo termine perché è coerente con il background della scuola e con i bisogni della scuola vedo scusa Marcella una domanda che avevano scritto il fatto che siano abbiate previsto solo mobilità di staff 200 mili venga considerata un fattore negativo non c'è questo che stavo dicendo io adesso il fatto appunto come diceva Marcella è questo che dovete dovete spiegare avete spiegato avete scelto di dare maggior rilievo alla formazione del personale rispetto agli studenti quindi non è un disvalore della candidatura esatto e poi dice perché se non è necessario indicare i partner della progettazione come posso sapere se poi accoglieranno i nostri studenti non è necessario ad ottobre con il K120 dicevo prima non è neanche necessario nel K121 ma appunto la domanda che la collega o il collega fa è lecita io non posso scrivere nel K121 non posso lo posso fare ma insomma non sarebbe opportuno proprio perché poi scrivo che faccio la mobilità di 15 persone di una settimana e non ho il partner e quindi poi la posso realizzare poi lo devo cercare lo devo trovare insomma è bene invece in quel lasso di tempo tra ottobre e febbraio per lo meno per il primo anno poi l'anno successivo si sa che a febbraio devo ripresentare il K121 o anche più tempo diventa una cosa strutturata però il primo anno da ottobre a febbraio insomma verso gennaio noi mi ricordo a gennaio si fece questa riunione ci mandarono il form ognuno di noi scrisse io ho questo partner io ho questo progetto si potrebbe fare si potrebbe partire da lì per quanti ragazzi ne discusse in una riunione poi si presentò il piano al preside accettammo tutti i progetti per quanto avevamo paura che la coperta fosse corta ma la coperta può essere sicuramente corta sempre più corta si diceva ma si può chiedere anche un piccolo contributo alle famiglie insomma bene o male un finanziamento Erasmus è meglio di niente quindi se uno scambio mi costava 300-400 euro se me ne costa 200 è sempre un qualcosa anziché zero come noi abbiamo potuto fare ma appunto perché i primi due anni avevamo un finanziamento elevato le scuole che avevano ottenuto l'accreditamento non erano ancora così tante e quindi è bene arrivare al K-121 con un piano in testa ma questo piano io non lo devo scrivere devo scrivere quante mobilità con quanti ragazzi con quanti accompagnatori quante visite preparate quindi la struttura ma i particolari Erasmus non li vuole e tanto meglio perché appunto si possono si possono cambiare come facevo esempio prima della Polonia in itinere se succede qualcosa se cambia il partner se mi accorgo che ci sono delle difficoltà e trasferirli altrove quindi è una flessibilità anche molto molto utile questo è importante peraltro oggi noi non l'abbiamo menzionato ma mi sembra l'anno scorso abbiamo fatto proprio un incontro su come poi trovare quali sono le persone attraverso quali trovare un corso strutturato che sia pertinente a quello che ho messo in candidatura come contattare come trovare le scuole per attivare il job shadowing oppure per attivare gli scambi con i ragazzi questo appunto la scuola ovviamente ha una sua idea però la flessibilità poi è una parte integrante della candidatura soprattutto come nell'accreditamento dove si progetta a lungo termine per cui è chiaro pensate a chi ha fatto l'accreditamento dal 2021 fino al 2027 è chiaro che fai una proiezione però poi ci devono essere i margini e questa flessibilità c'è scritto anche nel modulo di candidatura quando vi chiede di indicare anche gli obiettivi paradossalmente possono essere un pochino riformulati e spiegando se c'è sempre da dare una spiegazione quando voi fate il cap 121 magari nel corso dell'anno sono avvenute determinate cose che hanno cambiato quello che avevate individuato a fronte di una spiegazione che deve essere coerente deve essere argomentata c'è sempre la possibilità di rimodulare quanto è espresso in candidatura se non è necessario questo l'abbiamo risposto non ci sono altre domande Antonietta io tolgo la condivisione volendo adesso seguire Antonietta possiamo anche accettare domande a voce se i colleghi cinque minuti a questo punto sta con la registrazione sì 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 bravo sì bene